a vero come va come va a guardare tutti? si che è che non? ehi, vedi, 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 vedi vedi, 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 vedi vedi, vedi, vedi vedi, vedi ma sai perché vuoi un gioco? no, ma vedi che fissi tu ti, che vorrà che stava? ah ok 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 non staggai no Sì, 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 sì. No, non, 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 non. Non, 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 non. Abbiamo lavorato, non, 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 non. Non, 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 non. È un ruolo. Si la vete, Sio, a cosa? Non, 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 non. Fa sempre un ruolo. Ma mia o me manno, non lo tova. Ma не nella, non.